In compagnia di Romulo Buonarota che ha moderato questo dibattito sulla polizia locale e il titolo preciso era polizia locale nel dispositivo antiterrorismo qui al secondo giorno del quarto compleanno di senza barcode approfittiamo perché lui ci ha dato, lui appunto Romulo Buonarota che lo presentiamo è il segretario aggiunto di Roma del DICAP che è un sindacato dei vigili urbani della polizia locale, ha dato dei numeri, delle cifre importanti per quanto riguarda quello che sarebbe necessario per svolgere un servizio a Roma adeguato e efficiente di polizia urbana invece quanti sono gli effettivi in campo che ovviamente sono stati dei numeri in qualche modo anche un po' allarmanti perché poi alla fine ovviamente delle cose non si possono fare Assolutamente, noi abbiamo una condizione, una situazione che ormai non è a rosso, a riserva di più cioè l'attuale sindaco o sindaco come piace qualcuno definire dovrà fra un poco decidere quali saranno i servizi da chiudere e non quelli da fare Purtroppo ci troviamo nelle condizioni che con un concorso fermo l'organico ormai è ridotto all'omicino noi abbiamo praticamente 5.800 colleghi di cui la maggioranza sono una media di 54 anni di età quindi la loro capacità operativa è assolutamente ridotta pensate che questi 5.800 poi non li abbiamo sempre presenti sono H24 quindi devono garantire quattro turni giornalieri oltretutto questo personale si trova nella condizione in cui noi abbiamo come dire, per legge se noi guardassimo al nostro dispositivo normativo prevede che noi dovremmo essere intorno ai 9.500 unità in più l'organico previsto dal Comune di Roma sono 8.450 immaginate quindi 5.800 quanto siamo ben al di sotto di questo numero le competenze della Polizia Locale sono innumerevoli perché noi spaziamo al contrario dei colleghi di Polizia del Stato spaziamo dalle edilizie alla tutela dell'ambiente alle affissioni e pubblicità a persino al regolamento di Polizia Cimiteriale abbiamo tutta l'attività di sicurezza urbana la tutela del patrimonio quindi anche le case popolari c'è di tutto e di più quindi pensare per noi con questo organico di riuscire a coprire tutte le attività che vanno svolte sul territorio è impensabile di più delle volte abbiamo una scarsità di pattuglie che sul territorio grande come può essere Bologna possono andare dalle 3 alle 5 unità troppo poche per poter poi rispondere a volte abbiamo servizi a cui si risponde anche dopo 4-5 ore in maniera molto vergognosa ma non dipende da noi cioè spesso e volentieri l'accusa maggiore che ci vanno i vigili non ci sono ma in realtà i vigili proprio non ci sono perché non ci sono proprio se non assumono non ce la faremo mai e la cosa purtroppo è che andrà sempre peggio perché questo numero circa 500 persone all'anno che vanno in pensione proseguirà nel tempo quindi fra poco noi chiuderemo se non parte, se non al più presso non c'è un aiuto da parte del governo perché il governo con la Fornero praticamente ha creato un problema di organico l'ha bloccato e quindi in questo momento noi non riusciremo a sopprire a rispondere alle esigenze della città Rapidamente due domande volevo farti riprese appunto da quello che tu avevi detto durante il convegno allora prima di tutto una cosa che mi pare di aver capito vi trova svantaggiati rispetto alle altre forze di polizia cioè il fatto che se ho capito bene ti chiedo conferma eventualmente di sviluppare questo concetto che le altre forze di polizia hanno in qualche modo il dovere di risolvere i pubblici dissidi mentre invece voi non avete una normativa dove c'è scritto che dovete risolvere il pubblico dissidio e quindi due persone che litigano ecco un carabiniere vuol dire vabbè poi alla fine è un po' un giudice di prossimità invece voi non avete questo strumento per delle piccole cose che dovete risolvere rapidamente e rapidamente poi ti chiedo di darci una valutazione del servizio che i romani conoscono io segnalo che mi sembra di aver capito che è stata un po' una catastrofe ecco si spieghi un pochino cos'è poi allora all'articolo 1 del testo unico legge pubblica sicurezza praticamente viene definito che gli ufficiali di pubblica sicurezza hanno la dovere e la possibilità quindi di sanare i pubblici dissidi che vuol dire che loro hanno una facoltà diciamo l'interpretazione della legge e possono in qualche modo un piccolo range di azione in cui possono in qualche modo tranquillizzare le persone e creare e eventualmente evitare un'azione ad esempio nell'ambito dell'ordine pubblico se questo è necessario per tranquillizzare e calmare la situazione nell'ambito nostro noi questo ruolo non ce l'abbiamo non ci viene riconosciuto ma in realtà sempre più noi assumiamo una condizione sul territorio in cui andiamo a cercare di disanare le discussioni che avvengono fra i cittadini o a supprire l'inatempienza della pubblica amministrazione che quindi ci mettono in una condizione di essere attaccati diciamo e contestati come punto terminale dell'amministrazione stessa avere la possibilità di metterci nella condizione di avere un minimo di come posso di rivalutazione dell'opportunità di discrezionalità sarebbe opportuno chiaramente dovendone rispondere poi davanti a un giudice qualora ci fosse un abuso però per noi è fondamentale mi spiego meglio se non ci sono parcheggi in una zona abbiamo dei praticamente dei marciapiedi ampi di un'altra o tre metri e magari abbiamo delle macchine che per mancarsi di parcheggio stanno con due ruote sul marciapiede sì sicuramente è un'inflazione al codice della strada però noi avremmo bisogno di una normativa che ci consente di dire vabbè nella condizione attuale mi occuperò di infrazioni più gravi rispetto a questa e questa non è che non la voglio fare la farò quando sono in una condizione che potrò farla perché ho sanato cose ben più pesanti ben più gravi invece questo purtroppo non ci viene riconosciuto appena l'omissione d'attivicio il paradasso qual è e qui andiamo all'io segnalo si a me arriva il segnalatore seriale che alle 3.10 di notte non dorme e mi fa una segnalazione per una strada con 150 veicoli in queste condizioni io mi dovrò fare 150 veicoli da sanzionare i cittadini quando si svegliano la mattina saranno furenti perché magari questa cosa accade poi una tanto non avrò risolto il problema del parcheggio perché questi si ritroveranno comunque a farlo il giorno dopo e magari arriverò a 4 ore in ritardo per un incidente non è possibile questo già fa capire come una situazione quasi di overbanging si è creato un problema con l'io segnalo l'io segnalo potrebbe essere uno strumento efficace se gestire in maniera diversa se ci fosse una condizione di filtro mentre invece così non l'abbiamo perché per alcuni personaggi sono più importanti alcune menate piuttosto che non hanno una visione d'insieme non hanno un quadro d'insieme mentre noi quando riceviamo soltanto delle telefonate avevamo questa capacità di filtro e quindi diciamo guardi mi perdoni lei deve aspettare un po' di più perché abbiamo queste altre emergenze che sono più cocenti più forti invece questo non avviene più perché si deve rispondere in maniera cronologica e si creano della sua dirà bene quindi io spero anche che con l'inizio dell'operatività perché insomma dobbiamo anche dirlo l'inizio dell'operatività della sindaca Raggi insomma certe cose vengono dell'aggiunta della sindaca Raggi vengono sanate insomma migliorino per il resto io vi auguro buon lavoro e so che magari uscendo da qua incontrerò dei vostri colleghi vanno sanzionato per qualcosa ma insomma mi rendo conto che i cittadini romani sono molto molto indisciplinati e quindi insomma spesso pretendono di essere in qualche modo non sanzionati quando invece merita che poi c'è modo e modo di violare anche il codice della strada c'è modo e modo di mettere la macchina in doppia fila purtroppo è diventata una scienza si può mettere senza dare troppo fastidio si può mettere anche bloccando l'autobus il traffico insomma va bene io ti ringrazio Romulo Buonarota ricordiamolo e vuoi concludere con qualche altra sì c'è una cosa che voglio dire tu hai fatto bene c'è modo e modo di comportarsi e guarda voglio spendere io spezzare una lancia fuori dal cittadino a volte c'è modo e modo di comportarsi sempre che veste un uniforme perché non sempre questo accade però quando la condizione me lo consente a me su strada cerco di far comprendere le ragioni dell'osservanza ed alcune norme e quando trovo da parte di un cittadino intelligenza capacità di approfondimento il più delle volte anche dopo averlo sanzionato mi ringrazia per il lavoro che è stato fatto non sempre questo avviene però io credo che questa sia la strada giusta cioè far capire che il rispetto alla normativa della circolazione stradale è interesse di tutti non è il vigile che viene lì a romperti le scatole è il vigile che sta cercando di salvare delle vite e di far rispettare alcune condizioni di buon convivere nella nostra comunità auspico però chiaramente che debbano esserci sempre comunque personale sempre più preparato sempre più capace a trasmettere questo aspetto questa condivisione in realtà non si tratta come per il collega delle polizie di Stato un qualcosa che ci contrappone è un delinquente si tratta di un cittadino che in quel momento ha fatto una piccola deviazione se noi riuscissimo in qualche modo a fargli comprendere il valore del non fare queste deviazioni in qualche modo si capisce che siamo tutti e due dalla stessa parte non siamo in posizioni contrapposte grazie a Romulo Bonarota a Romulo Bonarota a Romulo Bonarota a Romulo Bonarota a Romulo Bonarota